Voi in corsia, noi in strada. Insieme ce la faremo. Medici, infermieri, sanitari, orgoglio di tutti noi. È la frase scritta su uno striscione, accanto a un grande cuore rosso, simbolo dell'omaggio che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno voluto dedicare oggi a tutti coloro che giorno e notte stanno al fronte per combattere il nemico invisibile e salvare vite umane. Dinanzi all'ospedale Santa Croce di Fano, uomini e mezzi dell'esercito, finanza, carabinieri, polizia di stato e polizia locale si sono uniti per portare un saluto a chi è in prima linea ormai da oltre un mese per superare la pandemia. Davanti a loro, gli eroi con le divise rosse e i camici bianchi e azzurri, ai quali è andato il lungo applauso dei presenti dopo l'inno di Mameli suonato dal maestro Caselli. Poi le sirene dei mezzi d'emergenza azionate all'unisono. Mano sul cuore, lacrime che si trattenevano a stento, un momento toccante per tutti. Presenti stamattina anche il sindaco Massimo Seri e l'assessore Cecchetelli, rappresentanza dell'amministrazione comunale, ad accogliere lo schieramento la direttrice generale di Marche Nord, Maria Capalbo, il direttore dell'Asur Area Vassa 1, Romeo Magnoni, e il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Adelchi Vaccaro. Anche questo maggio, ha detto la direttrice, lo dedichiamo a tutti gli operatori sanitari e al dottor Carlo Amodio, stimato radiologo scomparso ieri a causa del coronavirus. Veramente un grazie a tutta la famiglia istituzionale, perché siamo un'unica famiglia, sia la sanità ma anche le forze dell'ordine. E in questo momento abbiamo lavorato tutti insieme, con un unico obiettivo, cercare di tutelare la salute pubblica. In questo momento stiamo vedendo una piccola diminuzione dei casi. Devo dire che abbiamo fatto anche, rispetto ai primi giorni, forse, forse si incomincia a vedere un po' di luce. Abbiamo diminuito i pazienti che sono in rianimazione, ha precisato Capalbo. Da 40 siamo scesi a meno di 25, e questo grazie alla Task Force di Marche Nord, che sta lavorando su tutti i livelli, anche trattando le persone contagiate con i farmaci di nuova generazione. Siamo stati travolti da questa emergenza, ha aggiunto Magnoni, che ha fatto il punto della situazione. Non avrei mai pensato che all'interno delle mie strutture, l'ospedale d'Urbino, 10 medici in malattia, 15 infermieri in malattia in un solo reparto. Ho dovuto chiudere i reparti, ho dovuto accorparli, ho dovuto fare un casino della madrina di boia per cercare di rispondere a quello che è il nostro compito, cioè di curare al massimo la salute dei cittadini. Una cosa che abbiamo notato, che ultimamente sembra che un pochettino ci siamo stabilizzati, non con i morti, perché i morti ancora continuano ad essere purtroppo troppi. Ci siamo stabilizzati con le richieste, quindi le rianimazioni riescono a respirare un pochettino di più. Di conseguenza, considerando che in fase acuta l'unico rimedio è quello, risposte migliori riusciamo a darle e speriamo di salvare altre vite umane. Impegnato sette giorni su sette, anche il Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1. Non conosciamo giorni di riposo e siamo tutti arruolati per questa lotta. Siamo sul territorio per fare i tamponi, sostanzialmente quelli territoriali, al di là di quelli che si fanno qui, con tutte le criticità che questo comporta, perché sono sotto gli occhi di tutti e di chi le ignora sinceramente è uno stolto, perché non si può ignorare la carenza mondiale, internazionale, di kit diagnostici e di altri presidi, come le dispositive di protezione individuale, almeno all'inizio, adesso più o meno siamo in linea. E quindi queste difficoltà comportano anche l'esecuzione di un numero apparentemente limitato di tamponi, ma ovviamente dettato da una capacità laboratoristica, una capacità di disponibilità dei mezzi, non del laboratorio che non può farlo, ma degli strumenti per poterlo fare. Dobbiamo sconfiggere il Covid, sì, ce la faremo, ce la faremo.